Una coppia di fidanzati a bordo di una mini Cooper si è improvvisamente schiantata contro un palo nella pubblica illuminazione in località Coda di Volpe a Eboli. L'impatto è stato violento e i due 35 anni, originari di Battipaia, ieri sera sono rimasti feriti. Non è chiara la dinamica ma, riporta il mattino, secondo la versione della coppia, la vettura sarebbe uscita fuori strada per evitare di travolgere alcuni cani landaggi. Sul posto sono giunti i carabinieri che però non escludono un colpo di sonno del conducente. La donna è stata trasportata all'ospedale di Eboli per le cure del caso, le sue condizioni non sono gravi, lievi ferite per il fidanzato.